Ciao amici d'Italia Talk Games, allora io sono ancora in attesa che EA Sports valuti l'ultima partita, quella che stavo vincendo 5-2 e che l'avversario è staccato non ci sono notizie, comunque grazie all'amico Partenopeo 1926 ho fatto mia la sua idea di utilizzare la squadra che è di Balotelli e Diller la Dana Demislore, mi sembra che si chiama, adesso non ricordo comunque vediamo un po' di cercare la promozione anche se dall'altra parte c'è il Paris Saint Germain anche se questo giocatore sembra che non stia giocando vai Balot, vai Balot, vai Niente, non sta giocando sembra, ecco adesso ha iniziato quindi sono cavoli amari, dovevo segnare mentre era fermo beh, chiaramente questo matchmaking molto umano, la Dana contro il Paris Saint Germain se riusciamo comunque c'è anche un grandissimo centrocampista come Hiller che a me piace tantissimo anche se adesso è passato qualche anno ma è Samba Balonga ecco Mbappé pallone perso banalmente da Mbappé Guainaldu sicuro il davetto del portiere che fa in presa bello occhio cerca l'area di rigore azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa no alla recuperata, attenzione ok sul problema qui per il portiere bene a Samba Longa di Arnason buono il recupero di Sergio Ramos vai Super Mario ferma tutto il difensore, bravissimo qui bravo comunque ma ci siamo aperti bene passaggio da dimenticare palla regalata agli avversari il lancio profondo di Messi spezza l'azione prena una possibilità pericolosa di Arnason palla buttata via l'ha letta bene il difensore Guainaldu Marco Verratti il tocco per Verratti Verratti palla su Verratti occhio al movimento di Reymar spezzano senza difficoltà il ticchitac avversario questo non è fallo? intervento falloso per calcio di punizione contro il Paris Saint Germain bravo intervento ruvido questo però regolare che fortuna ragazzi certi palloni vanno sfruttati meglio affonda il tackle recupera la sfera ottima lettura difensiva ok bello buono il contrasto bravo bravo che regalato riesce a tenerla in campo può cercare il cross Messi la respinta ma non è finita allontana la minaccia portiere sugli scudi nell'occasione precedente ha negato un gol che sembrava già fatto situazione che resta in perfetto equilibrio intervento provvidenziale che bella azione che ho fatto bravo pallone riconquistato possibilità velo dall'era in fuorigioco dato sul possesso palla fotografa un match bloccato con poche occasioni da rete da una parte e dall'altra vedremo se una delle due squadre sarà in grado di prendere l'iniziativa con il passare dei minuti per bloccarla questa partita non c'era norma del vantaggio giustamente ferma il gioco palla che non è uscita buona giocata vediamo come la sfruttano interviene prima che sia troppo tardi un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara ah bravo valla valla Vargas intercetta il pallone bravo Baltello Adana Demir Sport partita di grande sofferenza ma teniamo botta teniamo botta vediamo se fare qualche sostituzione non mi sembra il caso forse Castro Stambuli dai sostituiamo Hiller e via vai secondo tempo è tutto pronto comincia il secondo tempo Vargas era buona l'idea ma il pallone non arriva Balotelli Bernat bravo Balotello recuperano bene palla se la prendeva con la palla Sergio Ramos Bernat Bernat palla Idrissa Gueye sbaglia la misura del passato grande ah sbaglia il tocco Berratti va via di fisico bravo Balotello Vargas buono il recupero possono ricominciare arrivaci Neymar mmm palla Idrissa Gueye il tocco Berratti si libera del proprio marcatore Idrissa Gueye contrasto efficace ah ecco Balotelli eh sì ed è gol ed è gol super Mario Balotello grande ragazzi adesso adesso teniamo teniamo questo risultato eh saranno 30 minuti di fuoco ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 ah si inserisce bene e recupera c'è spazio per la ripartenza uh difesa che recupera il possesso spua il controbiere non sono così d'accordo bene alla recuperata in ottima posizione uh intervento da manuale portiere c'è ci siamo alla terza finalmente no non ci siamo Neymar bravi c'è spazio per il contropiede ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra ma la recuperata azione interrotta occhio bene così regala il pallone vai ballo vai ballo ingenuità e pallone regalato occhio perché perdono un pallone pericoloso Stambuli ferma tutto il difensore bravissimo occhio al tentativo in campo aperto possesso recuperato bene dalla difesa quanto è dura ragazzi dai 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 bravo hai vita che il pallone esca va sottolineato qui il suo lavoro palla persa errore banale c'è il portiere c'è comodo intervento del portiere no grande bravi bravi occhio cerca l'area di rigore balottelli non c'è stato un tiro troppo telefonato ci vuole ben altro per batterlo Bernat Hakimi manca ancora l'ufficialità ma sembra ormai fatta per la promozione risultato che non lascia grandi dubbi hanno accumulato un buon margine per affrontare il finale di gara con tranquillità un successo meritato Pier frutto dell'ennesima prestazione convincente messo in campo da questa squadra che gufi che gufi ah pari san germain a caccia del gol del pareggio cerca il corridoio no incredibile mancano cinque minuti alla fine della partita ragazzi cinque minuti su resistere 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 nostra nostra teniamo palla teniamo palla l'importante è quello ok un minuto di recupero bravi un gol adesso di fatto avrebbe già chiuso i giochi no 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 ok è finita è finita è finita promozione è perché me l'hanno rubata una non mi danno i tre punti capperi che partita ragazzi contento 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 eccoli qua ma ragazzi che impresa battere il PSG eccoci qua adesso me l'ha data la partita me l'ha data la vittoria vabbè dai mi manca un punto per me l'ha data adesso la vittoria ho aspettato due giorni e me l'ha data adesso la vittoria va bene perché fatemi vedere stava 11 no 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 non me l'ha data la vittoria l'altra l'ho dovuta prendere sul campo quel 5-2 ancora non c'è non c'è non si sa per quale per quale ragione guardate adesso vi faccio vedere lo storico no non è questo ecco quella partita quel 5-2 che avete visto anche voi ovviamente non c'è 8 partite ne manca una e quindi non c'è ancora comunque l'importante è che arrivo in divisione 7 adesso devo fare un punto nell'ultima partita prossima partita con il Celtic altra vostra proposta speriamo di fare almeno un punto e vincere anche il titolo di divisione 8 si sale in divisione 7 chissà fin dove arriverò io vado avanti fin quando mi diverto come al solito come per qualsiasi gioco e al prossimo video ciao